Partecipo alla Race for the Cure da circa 10 anni, nel frattempo la mia maglia da bianca è diventata rosa, però mi emoziona sempre tantissimo e quest'anno ho creato una squadra per ricordare la mia povera cugina che è venuta a mancare tre anni fa sempre per una patologia tumorale al seno, quindi sono felicissima di fare la volontaria. La prevenzione tipo l'autopalpazione, perché io l'ho scoperto con l'autopalpazione e poi mi sono recata a rifare uno screening che avevo fatto sei mesi prima ed era risultato negativo, quindi è fondamentale stare sempre sotto controllo.